Cari fratelli e sorelle in Cristo, con questo video vogliamo affrontare un tema importante che riguarda la crisi della Chiesa. Un fenomeno spesso legato all'abbraccio del materialismo, presente a tutti i livelli ecclesiastici. Per questo motivo vi invitiamo a guardare il video fino alla fine, perché vi sveleremo il tentativo che è stato fatto per eliminare la recita del Santo Rosario, a cui tanti fedeli sono devotamente legati. Quando parliamo di materialismo e della crisi che affligge i fedeli, ci riferiamo alla realtà di molti cattolici che si dichiarano tali la domenica, durante la messa, oppure forse recitando una preghiera prima dei pasti, ma senza una pratica coerente e continua. Purtroppo però, il numero di cattolici che partecipano ogni settimana alle celebrazioni è sempre in discesa. Statisticamente ormai, almeno nel mondo occidentale, si va a messa, se va bene, di media due volte al mese. Questo già rappresenta una grave mancanza, ma il problema del materialismo è ben più radicato e non può essere ignorato. La vera essenza della crisi della Chiesa risiede proprio in questo attaccamento ai beni materiali e nella focalizzazione su cose secolari. È come gettare le perle ai porci, cercando di costruire un'utopia sulla terra o essendo ossessionati dal denaro e dai beni materiali. In tal senso, Papa Francesco ha ragione quando critica il materialismo e ammonisce i cattolici a non essere così legati ai beni materiali. Tuttavia, è paradossale che proprio lui, mentre denuncia il materialismo, appaia e venga accusato come uno dei principali materialisti all'interno della Chiesa. Se si osserva il suo messaggio, emerge chiaramente che egli sembra intento a costruire un mondo migliore, una causa che, sebbene nobile, ha dei limiti. Non si può creare un paradiso in terra e questioni come la povertà non verranno mai completamente risolte. Come ci ha detto il nostro Signore, i poveri li avrete sempre con voi. È nostro dovere, come cattolici, aiutare chi è nel bisogno, ma non sarà con meccanismi governativi e secolari che risolveremo questi problemi. Il materialismo è una piaga ben più profonda nella Chiesa di quanto molti di noi siano disposti ad ammettere e si manifesta in particolare nei laici, persino più che tra le gerarchie. Le stesse gerarchie riflettono i problemi che noi, come cattolici e come società, abbiamo. Tutto ciò che troviamo nei laici, i peccati, le tentazioni e le trasgressioni, si riflette inevitabilmente anche tra i Vescovi e i Sacerdoti. Troppi di loro sostengono e difendono mali e peccati evidenti senza la volontà di affermare con forza la verità della dottrina. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. È una riforma del laicato ciò di cui abbiamo bisogno oggi, forse più di ogni altra cosa. Se ci fosse una vera riforma dei laici, emergerebbero sicuramente Vescovi e Sacerdoti migliori. Purtroppo ci sono eventi che ci ricordano l'urgenza di questa riforma. Pensate ai politici che dichiarano di essere cattolici solo a parole, mentre promuovono leggi contro la vita, negando apertamente l'insegnamento della Chiesa. Ma ci sono anche altre situazioni altrettanto preoccupanti. Diverse stazioni radio cattoliche nel mondo hanno smesso di essere tali, iniziando a trasmettere contenuti privi di autentica fede. In molte comunità, stazioni radio cattoliche hanno cessato di trasmettere contenuti religiosi, sostituendoli con programmi di musica rock, pop, gossip o sport, anche se continuavano a essere gestite dalle stesse organizzazioni o associazioni cristiane. Avete mai sentito parlare di casi simili nella vostra zona? Un episodio simile è accaduto recentemente in Spagna e ci dovrebbe far riflettere profondamente. Radio Estel, una grossa stazione radiofonica cattolica della regione, serviva ai fedeli trasmettendo il Santo Rosario, la liturgia delle ore e altri contenuti religiosi in catalano, lingua che raramente si sente, a meno che non venga offerta dalla parrocchia locale. Una notizia è arrivata da InfoVaticana. Buone notizie, il direttore di Radio Estel si dimette. La Catalogna, regione della Spagna, ha una storia e una lingua particolari. Come descritto nel famoso libro Omaggio alla Catalogna di George Orwell, pubblicato nel XX secolo, questa regione ha una forte identità culturale e linguistica. Molte parrocchie, tuttavia, non possono celebrare una messa quotidiana a causa della scarsità di vocazioni sacerdotali, un problema particolarmente sentito in diverse parti d'Europa. Nonostante il suo ruolo significativo per la comunità, il direttore di Radio Estel aveva deciso di trasformarla in una stazione laica, abbandonando i contenuti cristiani in favore del guadagno economico. Questa scelta, però, ha sollevato molte polemiche e, alla fine, il direttore si è dimesso. Come riportato da Info Vaticana, la decisione di lasciare il posto è arrivata dopo pressioni ricevute per includere la recita del rosario e della liturgia delle ore nel palinsesto, cosa che il direttore non era disposto a fare. Si è sentito privato della libertà necessaria per dirigere la stazione secondo la sua visione e ha quindi preferito rinunciare. Oggi, la gestione di Radio Estel è tornata a un laico, scelto con l'approvazione di due cardinali con i quali aveva già lavorato in passato. Dopo 21 anni di direzione affidata a sacerdoti, la radio torna quindi sotto la guida di un laico. Inizialmente, anche il promotore del progetto, Francisco Viguez, un membro della Casa di Santiago, era un sacerdote, ma in seguito ha scelto la via della secolarizzazione. L'ultimo direttore aveva cercato di trasformare Radio Estel in una stazione più generica, per poter competere con le radio più popolari. Questo tentativo ha comportato la perdita dell'identità religiosa della radio, che ha visto trasferiti i programmi religiosi su un canale online chiamato Anima Estel. Tuttavia, l'esperimento non è andato a buon fine, la radio non è riuscita ad attrarre un pubblico maggiore, perché le altre stazioni già avevano una loro base di ascoltatori. Di fatto, l'unico risultato ottenuto è stato quello di perdere il pubblico affezionato ai programmi religiosi, come la recita del Rosario, seguita da molti cattolici mentre si recavano al lavoro o erano in viaggio. Questo cambiamento ha generato molta indignazione e numerosi ascoltatori hanno manifestato il loro disappunto. Il cambiamento di Radio Estel ha suscitato grande disapprovazione tra i fedeli, che hanno espresso il loro dispiacere e scontento per la rimozione del Rosario dalla programmazione. Secondo la cronaca riportata, molti hanno scritto direttamente alla delegazione e al cardinale per manifestare la propria delusione e far sentire la loro voce. È sorprendente pensare che il direttore di una radio cattolica, presumibilmente un credente, non comprenda quanto sarebbe dannoso privare i fedeli di un servizio così importante come la recita del Rosario e della liturgia delle ore, spostandoli su internet e trasformando la radio in una stazione laica. Questa scelta ci porta inevitabilmente a riflettere. Molti potrebbero vedere in questo episodio un segno di influenza maligna, poiché togliere un elemento sacro, come il Rosario, da una radio seguita da tanti cattolici, che lo ascoltano anche durante il tragitto quotidiano verso il lavoro, appare chiaramente come un gesto di allontanamento dal sacro. Non vogliamo insinuare che il direttore di Radio Estel abbia avuto intenzioni oscure o che fosse in qualche modo ispirato da spiriti demoniaci. Tuttavia, privare una comunità di un tale sostegno spirituale quotidiano è, in sé, un atto di natura diabolica, indipendentemente dal fatto che la scelta sia stata ispirata da un'influenza maligna o da semplice mancanza di visione spirituale. La storia di Radio Estel deve essere per noi una lezione di prudenza, perché situazioni simili possono verificarsi ovunque. Numerose stazioni radio, che in origine erano genericamente cristiane, hanno cambiato completamente il loro formato per diventare emittenti sportive o di musica, mantenendo solo il nome, ma perdendo del tutto la loro natura originaria. E questo purtroppo sta iniziando ad accadere anche alle stazioni radio cattoliche e persino alla televisione cattolica. Non illudiamoci che realtà consolidate come Eternal World Television Network o Radio Maria siano completamente al sicuro. Se l'età media dei loro spettatori dovesse continuare a crescere e la platea a diminuire, potrebbe arrivare un giorno in cui qualche vescovo, in mancanza di supporto o per pressioni economiche, deciderà di fare delle modifiche radicali alla programmazione o persino di cedere l'intera emittente. E voi cosa ne pensate? Vi sorprende che un direttore cattolico abbia scelto di eliminare i contenuti di fede dalla programmazione? Scrivete il vostro pensiero nei commenti e, se avete apprezzato questo contenuto, ricordate di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al canale. Come sempre preghiamo per la nostra amata Chiesa. Che Dio ci benedica e accompagni.